Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video Oggi parliamo sempre di Pokémon GO Ma di un argomento che in Italia non ho ancora visto affrontare Quindi non chiudete subito il video perché ha visto solo le scatole Pokémon GO Diciamo che sarà più che altro una scusa per parlare di quello che amo di più La sicurezza informatica Non perdiamo tempo e cominciamo subito Probabilmente avete già capito di cosa si tratta Affrontiamo una volta per tutte questa leggenda Ma Pokémon GO è davvero in grado di accedere al nostro account Google Leggere le nostre email, fare casino, prendere tutti i dati e dominare il mondo? No perché è proprio questo che si è letto sulle principali testate giornalistiche Il dubbio è emerso in questo modo Come sapete quando aprite il gioco per la prima volta dovete registrarvi E potete accedere o tramite l'account Pokémon oppure tramite il vostro account Google E sicuramente non è la prima volta che vedete un bottone così Tutti i bottoni sign in with Google oppure accedi con Google Ma valgono anche i bottoni accedi con Facebook, accedi con Twitter In quanti giochi ci sono questi bottoni? Perché tra tutti i servizi che usano il bottone login with Google Proprio Pokémon GO è stato incriminato Per due ragioni Una la vedremo a fine video L'altra ne parliamo adesso Perché tecnicamente nella prima versione dell'app la 1.0.0 Questa cosa era vera Il problema stava nei permessi I bottoni accedi con Google, Facebook, Twitter o quello che è Funzionano tramite un sistema di autenticazione chiamato O-Auth In pratica funziona in questo modo Se io creo un servizio che necessita di un login Ma non ho voglia di sviluppare, di scrivere il codice Che effettivamente permette la registrazione di un utente nel mio sito web Che può essere un gioco, un giornale, quello che è Posso affidarmi a un database già esistente In questo caso quello di Google Dico sai che c'è? È inutile che ti vai a creare un altro account sul mio sito Fai l'account tramite Google E siamo a posto In questo modo posso verificare lo stesso la tua identità Ed è questo che significano i bottoni accedi con i social network Per esempio voglio loggarmi con Google Io clicco sul bottone E quindi si apre effettivamente la pagina di login di Google Dentro la quale dovete inserire la vostra mail e la vostra password I dati vengono controllati E se Google dice ok nel mio database risulta questo è tutto ok Dà in risposta all'applicazione un token Il token in questo caso è un file Che consente a quell'applicazione di terze parti Di accedere al vostro account Senza dover inserire la password ogni volta Una specie di pass Di lascia passare Quindi per esempio Pokemon Go Dopo che per la prima volta abbiamo fatto l'accesso con Google Anziché ogni volta richiederci la password E infatti non ce la chiede più Può esibire il suo token Dice no aspetta io non ho bisogno della password Tu la prima volta mi hai dato questo token È ancora valido quindi fammi entrare Ovviamente è più complesso di così E i token sono dei file sofisticati Google come molti altri social network Quando generano un token per altre applicazioni Gli possono dare determinati permessi Questi token possono essere estremamente restrittivi Per esempio dando il permesso all'applicazione Soltanto di accedere a cose come il nostro indirizzo mail Il nostro nome e cognome La nostra data di nascita O nel caso di Google per esempio Vedere se abbiamo dei canali YouTube associati Oppure possono essere molto meno limitativi Dando accesso per esempio alle nostre mail In entrata e in uscita Quindi tutto quello che riceviamo E tutto quello che mandiamo O addirittura dare accesso Al controllo completo dell'account Sono le classiche cose Quest'app può fare Quest'app non può fare Quindi dipende tutto dai permessi Che ha il token nel momento in cui viene generato Tutte le applicazioni di terze parti Per esempio per la lettura della posta di Gmail Hanno bisogno di un token Questa applicazione non si potrà accontentare Di un token ristretto Che di accesso a informazioni basilari Perché deve fisicamente farci vedere le mail E deve poter scrivere delle nuove mail Quindi verrà generato un token un po' più sofisticato Che permette accesso alle mail Appunto in entrata e in uscita E invece dall'altra faccia della medaglia Se il nostro account Google Lo utilizziamo per accedere Non a un client di posta elettronica Ma a un giochino come Pokémon Go Che è il massimo che deve farci E controllare il nostro nome e cognome Data di nascita ovviamente andrà a richiedere Un token più restrittivo Perché tanto quel poco che gli permette di fare Gli basta e avanza Funziona così È molto raro che un'applicazione chieda Più permessi di quanti gliene servono Perché desterebbe sospetto Ed è proprio quello che è successo in questo caso O meglio non esattamente Il token che Pokémon Go chiedeva di generare Infatti permetteva appunto di visualizzare Soltanto informazioni basilari Il problema è che veniva generato Con una tecnica obsoleta Vecchia Con una grossa falla di sicurezza E questa grossa falla di sicurezza Permetteva di prendere il token nuovo di Zecca Appena generato Seppur molto basico Che aveva accesso a pochi dettagli Del nostro account Google E trasformarlo in un super token Che prendeva possesso di tutto l'account Un po' come quando a scuola Falsificate le firme di vostra madre Uguale Ed è per questo che Google Si accorgeva di questa falla Si accorgeva che il token Era di bassa qualità tra virgolette E quindi appariva la scritta Occhio Pokémon Go potrebbe avere accesso completo Al tuo account Ora però nei nuovi aggiornamenti del gioco Questo problema è stato risolto E quindi possiamo stare tranquilli I token adesso sono sicuri Ma possiamo davvero stare tranquilli? Volevo riprendere una frase Che ha detto proprio Tom Scott Ve la traduco in italiano nel suo video E poi commentarla Visto che pur essendo una frase molto intelligente Non sono così d'accordo con lui Tom Scott ha detto Questa storia di Pokémon Go Che ruba le email È diventata virale in un secondo E aggiungo io ragazzi I complottisti sono sempre esistiti Sono persone il cui unico interesse È generare scandali Sommosse e preoccupazioni Sfruttando la popolarità globale Di un fenomeno di massa E questo perché secondo voi? Perché fa visualizzazioni Perché attira l'attenzione del mondo Ma il problema non è tanto questo Il problema è che la notizia Ve ne è sempre storpiata Avete visto quanto c'è voluto Da spiegare il vero problema dei token A dire Ah Pokémon Go Ruba il vostro account di Google Che non è vero È molto generalizzata come cosa Però c'è voluto un attimo E adesso mezzo mondo Crede davvero che Pokémon Go Rubi la vostra identità di Google? E nessuno invece si è mai domandato Ma questa Niantic Azienda di medio-bassa popolarità Che però in dieci giorni Si è ritrovata ad avere per le mani Un'applicazione Che in termini di download e utilizzo È riuscita a battere Facebook E il porno Signori Pokémon Go A livello di statistiche Ha battuto addirittura la pornografia Rendiamoci conto Questa applicazione che ha fatto Raddoppiare le azioni in borsa di Nintendo È un'applicazione che è in grado Di tracciare ogni fottuto spostamento Di decine di milioni di persone In ogni angolo della Terra E che ripeto È nelle mani di una società Che si è vista arrivare addosso Un successo In una settimana Figuratevi quante tentazioni Riceverà di vendere Queste informazioni GPS A ricercatori di pubblicità A malintenzionati A aziende di terze parti Attenzione Nessuno ha mai detto Che lo fa Che lo sta facendo Non voglio fare diffamazione Anzi Sicuramente non lo sta facendo Ma indubbiamente alcune tentazioni Le starà ricevendo Bene Ora che vi ho detto il pensiero di Tom Ve lo volevo condividere Vi dico il mio Noi utenti del mondo Siamo circondati E dipendiamo Da oggetti Che hanno il completo controllo Su di noi iPhone Più Facebook Whatsapp E Instagram Che sono tutti sullo stesso tetto Più Pokémon Go Significa che noi Potenzialmente Potremmo condividere La nostra posizione GPS In quasi tutti gli istanti E la nostra vita privata Attenzione Consapevolmente Tramite dei social network Che sono di proprietà Di aziende Che fatturano miliardi E che tramite queste informazioni Potrebbero svolgere delle ricerche Anche illegali Quindi avendo accesso Alle informazioni Che noi scriviamo Sui loro social network A livello globale Di chiunque Quindi Non c'è tanto da sorprendersi Quando ogni tanto Si sente in giro Arriva la notizia Arriva il genio di turno Che dice Oh mio Dio Si è sentito lo scandalo Facebook era in grado Di leggere i nostri messaggi privati Allora Potrebbe anche essere vero Ma sono l'unico Che non se ne preoccupa Cioè davvero dovrebbe Importarmi qualcosa Che Mark Zuckerberg Ha venduto Le informazioni trovate Nel mio account Ad un hacker Brutto e cattivo E che adesso lui sa Che ho comprato Dalla Cina Un cuscino A forma di smile Che dà il bacino Oh mio Dio Sono rovinato Svegliatevi Noi siamo delle persone normali Tu ragazza Che magari Hai uscito le tette Tramite la chat di Facebook A un tuo compagno di scuola Non ti devi preoccupare Se poi salta fuori Sul giornale Che tutte le tue chat Inclusa quella foto Potrebbe essere Spiata E venduta Dai grandi colossi Di Facebook Perché anche se Questa cosa fosse vera E non è detto Secondo me Mille volte meglio Che quella foto Compromettente Finisca nelle mani Di aziende pubblicitarie Tramite metodi illegali Assieme a miliardi Di altri chat In ogni lingua In ogni salsa Di qualsiasi tipo di persona Piuttosto che la scopra Tuo padre Banalmente Prendendoti il cellulare Perché se quella foto Finisce in mano A un ricercatore pubblicitario E gli viene venduta Assieme a tonnellate di materiale Vuoi sapere cosa ne fa Di quella tua foto? La prende E la butta nel cestino Perché non sta cercando Quello Non gli serve Se invece finisci in mano A tuo padre Probabilmente Non vedrai più La luce del giorno Per i 6 mesi successivi Fateci caso Ogni volta che esplode Un social network Di successo Cominciano gli scandali Di questo genere Il 90% di noi Instagram E Snapchat Lo usano per postare La foto della cotoletta Che hanno mangiato La sera prima Anche se fosse vero Che Pokémon Go Spiasse il nostro GPS Vi dico io Qual è il massimo Che potrebbe succedere Si potrebbero accorgere Che una determinata piazza È frequentata Per esempio Per la maggior parte Da giovani E quindi in quella piazza Comincerebbero a costruire Più negozi Magari di abbigliamento giovanile Oppure più negozi Di videogame Questo è come potrebbero Sfruttare queste informazioni Prese illegalmente Queste applicazioni Social Pokémon Go Sono fatte Per farci divertire E per darci delle comodità E a meno che non ci sia Uno scandalo di sicurezza Grosso e confermato Dati alla mano Come quello dei token Che vi ho accennato A inizio video Non credete A tutti i complotti Che si sentono in giro Perché sono fatti apposta Per farvi Incazzare Contro la società Prendete sempre con le pinze Tutto quello che passa Per internet Detto questo ragazzi Io spero che questo vlog Su Pokémon Go E la sicurezza in generale Vi sia piaciuto Se è così Fatemelo sapere Lasciando un bel pollice in su E siccome lo sapete Ci tengo tanto A questo genere di video Condividetelo il più possibile Voglio che venga visto Da tante persone Perché voi sapete Che io detesto La disinformazione Seguitemi su tutti I miei social network I link come sempre Ve li lascio Qua sotto in descrizione Ma soprattutto ragazzi La cosa più importante Iscrivetevi al mio canale E noi ci rivediamo In un prossimo video